La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti SRL, con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio Maiori 83B, è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. La Nocerina cala un altro tris sul tavolo del calciomercato. Sono Rossonedi, Francesco Uliano, Lorenzo Liurni e Mario Crasta. Per Uliano, la cui trattativa era iniziata nei giorni scorsi, è un ritorno in rosso-nero. Sarà il punto di riferimento della mediana molossa. Centrocampista centrale, Uliano conta tantissime presenze in Serie C. È già stato alle dipendenze di Esposito e sarà il fulcro della mediana molossa. Ritorno in rosso-nero anche per l'attaccante Lorenzo Liurni. È stato al San Francesco nella stagione 2019-2020, realizzando 12 gol. Un acquisto che potenzia ancora di più la prima linea molossa, che può già contare sui vari parravicini, piccioni, caccavallo e del Bactui. Beniamino del pubblico rosso-nero, Liurni, conta 288 presenze in cardiera, di cui 43 in Serie C. 61 i gol complessivi. Ufficializzato ieri anche l'ingaggio di Mario Crasta. Trattasi di un difensore centrale classe 2005 proveniente dall'Empoli. L'anno scorso è stato il capitano dell'Under-18. Ha partecipato anche al torneo di Viareggio, realizzando due golle e un assist. Bottino niente male per un difensore. Grazie. Grazie. Grazie.